L'anno nuovo porterà l'ingresso a pagamento per l'area archeologica di Altilia. A partire dal 2 gennaio il biglietto costerà 10 euro. L'introduzione di un biglietto, spiega il direttore regionale dei musei Enrico Rinaldi, consentirà di passare dall'oblio all'inserimento nel sistema museale nazionale per un luogo straordinario che verrà quindi compreso all'interno dei circuiti nazionali e internazionali. Il costo di 10 euro è la metà rispetto a quello che si paga per altre aree archeologiche fondamentali come Pompei il Colosseo, prosegue Rinaldi. Come sempre ogni cambiamento genera reazioni positive e negative per la federazione italiana guide e confesercenti. Il pagamento deve essere visto come un investimento per preservare la bellezza e la storia intrinseca nel patrimonio culturale del parco. Molto critico invece lo storico Franco Valente che annuncia la sua presenza il 2 gennaio ad Altilia con un cartello con nome e cognome sotto la telecamera per il riconoscimento e attacca il soprintendente. Non è Luigi XIV, si legge in un post social dal titolo Il tratturo di Sepino e i boiardi dello Stato italiano. Grazie. 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 Grazie.